per la quarta serie in uno Giorgia Todaro in due Sofia Lucia Catanese in tre Shaola Stefanuto in quattro Linda Groenland in cinque Valentina Morini in sei Chiara Napolitana in sei Giorgia Forlani e in otto Giorgia Mel tanto epilogo della sesta serie vediamo i risultati ufficiosi Federica Pozzobon 28 e 59 28 e 77 per Giorgia Mazzone